è messa a fine in fondo o non puntarlo addosso tiro con freccia di merda che va sicuramente storto cosa miri scatola del latte è andata la scatola del latte ha preso la bottiglia del latte notare che qui abbiamo trovato un materasso di pura lana di pecora durissimo a freccia lunga 40 centimetri va bene e si fica brutto rimane la non si rompono niente vai secondo tiro secondo tiro fatto con freccia sempre artigianale 38 centimetri fatta bene vediamo se riusciamo a farci male andiamo la vicino fuori di brutto facciamo un test stessa freccia la tiro io ti è la scatola in mezzo del latte è la bottiglia del latte wow preciso giusto guardala non è dovuto neanche aspettare quindi questo ci va a dire che è la monalisa che ha sbagliato il colpo prima si vai altra freccia vai il primo al secondo metti pausa quando si che è la nostra la scatola in mezzo va a dire che qui ci va a dire che è la scatola in mezzo va a dire che è il bel la scatola in mezzo va a dire che è il